Ho iniziato perché avendo creato un blog, sono entrata in un circuito di handmade dove mi sono resa conto che esistono tante piattaforme internazionali di e-commerce su cui poter vendere. Tra queste piattaforme quella che mi ha colpito di più è stata Etsy e quindi ho deciso di aprire qui un negozio online, uno shop online e ho iniziato a realizzare delle t-shirt con immagini stampate da me e poi modificate e dipinte con dei colori resistenti al lavaggio e effetto tridimensionale. Mi occupo un po' di tutto da sola, dalla ricerca delle immagini, la loro modifica, poi le dipingo appunto con questi colori e dopodiché anche della gestione del negozio, dell'imballaggio, delle spedizioni, dei contatti con i clienti, più o meno di tutto. e mi piace moltissimo perché mi sembra di viaggiare, le mie t-shirt vanno in giro per il mondo, ho contatti con persone di tutte le parti del mondo che poi mi danno il loro feedback e mi piace e mi diverte molto. Casa mia è diventata un laboratorio pieno di magliette, colori, pennelli eccetera, è tutto molto confusionario ma molto stimolante e divertente. Grazie a tutti.